Miguel Gisotti, presidente del Rotary Club International, una sezione di Latina, ha completamento di questa serata, per concludere con lei. È stata una serata bellissima, un evento eccezionale, di nuovo con noi Barbara Enzoli. L'Ordine dei Medici ha un motto che somiglia molto a quello vostro. Noi serviamo, siamo un ente ausiliario. Voi servite gli altri. Quindi perché questa iniziativa questa sera? Questa iniziativa è volta soprattutto a far sì che il Rotary si rivolga sempre più alla città, quindi all'habitat in cui opera. E quindi abbiamo voluto, insieme alle Soroptimist del Club di Latina, invitare la nostra socia onoraria, che è la dottoressa Enzoli, che sicuramente dà prestigio a questa città e quindi ha richiamato, come si è potuto ben vedere, l'interesse dell'intera cittadinanza e la partecipazione veramente di tutta la popolazione. Questo a noi fa da cassa di risonanza e quindi fa sì che il Rotary venga sempre più conosciuto in ambito cittadino e provinciale. Noi le ringraziamo di questa occasione. L'Ordine la ringrazia insieme ai suoi iscritti e speriamo che nell'anno che verrà potremo intraprendere delle azioni comune proprio. Abbiamo lo stesso motto e speriamo di collaborare. Io vorrei aggiungere solo che è un molto piacere di collaborare con l'Ordine dei Medici e vi annuncio già che faremo un forum prossimamente sulle cellule staminali d'accordo con l'Università La Sapienza di Roma, con il rettore e il professor Prati per proprio fare un grosso evento a favore dell'equip di studiosi di cellule staminali che l'Università di Roma ha decentrato sull'attività. Quindi anche questo dovrebbe avere una notevole cassa di risonanza per la cittadinanza. Noi le ringraziamo dell'ospitalità e le auguriamo ancora successi. Grazie a voi. Arrivederci. Ciao.